Simone Parodi, alla vigilia della sfida con l'Olanda, prima di tutto come stai? Guarda, ieri ho avuto un piccolo problemino al ginocchio che sinceramente non mi è mai capitato questo, ho sentito tipo un pezzettino di osso, mi sembrava un pezzettino di osso, ma adesso un bocca, ma mi ha tranquillizzato. Adesso sono più tranquillo anch'io e domani ci sarò sicuramente. Devo dirti che sono un po' dispiaciuto per ieri, più che altro anche per i primi sette, perché avevamo fatto una partenza strepitosa, eravamo a 20-13 e poi abbiamo perso e secondo me è stato un po' quello che ci ha un po' condicinato tutta la partita. Poi dobbiamo anche dare merito a loro perché secondo me hanno giocato una buonissima partita e io personalmente pensavo comunque dopo, sul due pari, mollassero un pochino loro e noi partessimo un po' più carichi. Invece purtroppo non è andata così, ma è tutta l'esperienza che ci serve, però adesso dobbiamo passare a fare le cose e non più chiacchierare o parlare tanto in campo, ma passare i fatti, questo sicuramente. Questa Olanda che è sulla strada per i quarti non l'avete mai incrociata quest'anno, però l'avrete studiata. Immagino, che cosa bisognerà fare? Secondo me loro sono squadra temibile perché comunque hanno giocatori, anche questa squadra ha giocatori che militano in Italia e che giocano al nostro campionato e sono comunque ragazzi esperti. Dobbiamo stare molto attenti, ma penso che anche questa partita dipenda molto da noi. Se noi scendiamo con i nostri punti di forza e sappiamo benissimo dove andarli ad attaccare, secondo me possiamo portare a casa la partita, questo sicuramente. Dipende molto dall'approccio che avremo nella partita, però domani che è una partita dentro o fuori penso proprio che avremo un... caratterialmente saremo giusti diciamo.